Eccoli i Magnifici Sette che si sfideranno a Teramo il 10 giugno per la carica di sindaco della città. Paola Cardelli, sinistra per Teramo, Cristiano Rocchetti, Movimento 5 Stelle, Gian Donato Morra, centrodestra, e i civici Gian Guido Dalberto, alleanza per Teramo, Giovanni Cavallari, Bella Teramo, Alberto Covelli, per bene in comune, e Mauro Di Dalmazio, fare grande Teramo. Si parla però di ultime prove di dialogo tra i civici per possibili sintesi finali. E più dialoganti sono proprio Covelli e Di Dalmazio. Quest'ultimo apre le sue porte a chiunque voglia condividere un discorso appassionato sulla città e punta al libero voto di opinione dei Teramani. Prove di dialogo tra civici o no? No, non ci sono prove di dialogo perché non c'è stato modo, ma non ci sono, come dire, non si sono create ancora le opportunità in questo senso qui. Ma non è che c'è necessità di un dialogo che faccia un po' rievocare le vecchie liturgie a cordi e a cordicchi. Da tutto questo rifugiamo. Noi abbiamo spiegato il nostro progetto. Nasce da lontano, nasce dalla denuncia di una situazione politica e di una degenerazione che a nostro avviso c'era stata nella scorsa maggioranza, nella scorsa consigliatura. E sulla base di quello abbiamo lanciato un progetto realmente civico. Quando dico civico, c'è un progetto senza padrini, senza riferimenti, che oltre alla città e alla comunità di Teramo. Non teme di non arrivare al ballottaggio se vada solo? Non è un problema di non temere o temere il ballottaggio. In una competizione elettorale i rischi ci sono sempre. Io credo che l'azione politica sia stata compresa da molti. Abbiamo dei riscontri importanti, delle disponibilità inaspettate a far parte di questo progetto, direttamente come candidature e anche indirettamente. Questo significa che evidentemente questo messaggio di un progetto, che chiaramente articoleremo attraverso un programma in cui si delinea una visione ambiziosa della nostra città, che deve recuperare il proprio ruolo di città, comune, capoluogo e di riferimento territoriale, io credo dai primi riscontri che abbiamo avuto che si sia squarciato un velo. Lei cosa ha più degli altri? Non so, credo nulla. Da un punto di vista personale sicuramente nulla. Non è una questione di classifiche o di comparazione personale. È un problema di caratteristiche del progetto. Cercheremo di coinvolgere e di stimolare la partecipazione e la comunità terramana sulla condivisione di un progetto, di un metodo e di un'apertura inclusiva alla partecipazione alla cosa pubblica.